Oggi siamo a casa fratelli Beretta per due novità, giusto? Ma partiamo dalla novità di comunicazione perché avete presentato uno spot, una nuova campagna con un testimonial d'eccezione, Cannavaro e vabbè la firma, adesso dico due informazioni tecniche, Est, Young, Yellow, casa di produzione Film Master, regia Veronica Mengoli. Insomma un passaggio importante, la prima volta di un testimonio il vostro? No, devo dire che riprendiamo un sudalizio che è iniziato nell'anno turnato dei mondiali nel 2006 Cannavaro è stato il nostro testimonial in una fortunata campagna del 2006 del frigorifero c'era una soggettiva dall'interno del frigorifero all'interno del quale Cannavaro in diversi soggetti utilizzava un tono molto simpatico e faceva e promuovia i nostri prodotti. A distanza di tanti anni abbiamo deciso di riproporre questo sketch in maniera più moderna e più divertente. Il prodotto oggetto della comunicazione è prosciutto affettato, no? E passerei subito però all'altra novità di prodotto che vi fa entrare dritto in un nuovo segmento di mercato anzi lo create quasi, che è quello dell'arrosto affettato. Certo, la nostra volontà è creare un nuovo segmento di mercato? Con due arrosti, uno di maiale e uno di tacchino, un arrosto diverso, una fetta spessa, un prodotto pronto da gustare, da scaldare o abbinare con dei contorni. L'idea è in linea con quello che è il valore di questa azienda, creare un nuovo segmento di mercato e quindi contiamo molto su questa novità. Obiettivi di business? Beh, importanti, quando si crea un nuovo segmento ci vuole forse un po' più di tempo ma pensiamo che possa creare dei numeri veramente importanti, creare valore aggiunto per il consumatore che non ha un prodotto del genere ma anche per il trade perché sono prodotti primi ad alto valore aggiunto. Tra l'altro appunto non sarà in campagna perché, come ci dicevamo, nel vostro comparto bisogna aspettare la distribuzione prima di far comunicazione, giusto? Sì, diciamo che è una peculiarità del nostro mercato, difficilmente si riesce in fase di lancio a raggiungere i livelli distributivi sufficienti a coprire, a fare la copertura per una campagna televisiva. Quindi normalmente, non avviene questo in tutto il largo consumo ma nei salumi sì, bisogna aspettare qualche mese prima di poter comunicare. Parliamo del vostro rapporto con il marketing e la comunicazione, quanto è importante e come lo vivete? Beretta è l'azienda nel mondo di salumi con la maggiore awareness, di gran lunga è la più nota in top of mind ma anche in sollecitata e in spontanea. Questo significa che comunichiamo non tantissimo ma in maniera molto efficace utilizzando due differenti leve, sia la leva della DV classica che quella delle sponsorizzazioni sportive. Il fatto di avere utilizzato e scelto Carnavaro in questo momento è la summa delle due attività per cui suggeriamo questo matrimonio tra sport e comunicazione in maniera, mi auguro, ancora più efficace. E come però faremo a far sapere ai consumatori che esistono le fette d'arrosto attendendo la campagna? Non c'è solo il canale televisivo, c'è tutto il mondo digitale, c'è il mondo dei social, soprattutto ci sono le promozioni. La visibilità di punto vendi è anche un modo per comunicare ai nostri consumatori e farsi vedere. Quindi il mercato dei salumi è un mercato altamente promozionato, è un mercato dove farsi vedere nel punto vendita è importante, quindi investeremo anche in questo. Chiudiamo con un occhio ai dati e al business. Insomma, un momento, il 2023 non sarà un anno facile, lo sappiamo, costi che li evitano e anche prezzi al consumo che salgono. Ecco, per Fratelli Berretta che anno è? È un anno assolutamente in linea con quello che è purtroppo il trend del largo consumo, quindi dal mondo dei salumi e in maniera più allargata di tutto il largo consumo. Quindi è da settembre dell'anno scorso che i volumi sono scesi, le vendite a valore hanno tenuto per un po' di mesi e adesso siamo in una situazione non felicissima. Speriamo che con la nostra dinamicità si riesca a dare un po' di impulso al mercato.